Questa è una storia di Natale. Ma non parlo di Babbo Natale, Santa Claus o San Nicola o come lo chiamate di solito. Questa è la mia storia. Io sono Donom. Cosa? Il nome non vi dice nulla. Ah, sono io ad organizzare il Natale da migliaia di anni. E anche quest'anno mi tocca fare tutto da solo. Lucidare la slitta, controllare le briglie di Rudolf. Quest'anno abbiamo ricevuto un sacco di lettere. Ah sì, troppe lettere di tantissimi bambini buoni. Ci sono lettere ovunque. Sì, ovunque. Sempre la stessa storia. Preparo i regali famiglia per famiglia. Faccio tutto il lavoro e lui si prende tutta la gloria. Ma guardalo, guardalo lì. Sempre a mangiare latte e biscotti, latte e biscotti, latte e biscotti. Non fa altro. E io, e io sono qui a lavorare. Ho anche terminato la polvere di fata per risvegliare i miei aiutanti gnomi d'alletargo. Ma per fortuna quest'anno il treno magico di Casanova mi ha portato regali speciali per tutti. Cosa? Sì! Ogni giorno può essere Natale, se sai con chi condividerlo. Grazie Casanova, l'amante della casa e del Natale.